Per scaricare le mappe dovete cercare su Google portale geocartografico trentino. Entrate nel sito, nel menu a sinistra, la voce SIAT. Poi andate sulla voce VIDA e fate accesso all'UrbGIS pubblico. Nel menu a sinistra che avete qua a sinistra avete tutte le possibili mappe che potete visualizzare. Ad esempio se avete la carta tecnica ovviamente selezionate la carta tecnica del 2015 che è la più aggiornata. Fate uno zoom sull'area che vi interessa. Diciamo che questa sia l'area che vi interessa. Quindi andate nella sezione download. La modalità di selezione è da quadro in unione. Attivate la selezione. Selezionate la mappa che vi interessa. Quindi scendete qui nel menu e trovate la carta tecnica. Selezionate, cliccate sulla mappa. E vi compare l'area gialla che è la mappa che vi è andata a scaricare. Che chiedete di scaricare. Una volta che l'avete selezionata. Fate download selezione. E quando vi farvi scaricare vi si visualizza. Dovete cliccare sul link e fate salva a pari. Questa procedura qua la dovete fare per la carta tecnica, per l'ortofoto e per il leader formato ASC.